A Brescia, l'11 febbraio 1971, 11 proprietari di negozi di elettrodomestici decidono di fondare insieme la Copre, cooperativa piccoli rivenditori elettrodomestici nei primi uffici di Via Bezzecca. Lo scopo dei lungimiranti fondatori è quello di creare un gruppo d'acquisto che aumenti la forza contrattuale nei confronti delle aziende fornitrici. A fine anno i soci saranno già sedici. Nel 1973 avviene il primo trasloco dalla sede di 40 metri quadri a quella di San Polo di 250 metri quadri, che comprende un piccolo primo magazzino. Continua l'espansione. Nel 1979 la sede si sposta nel complesso Il Magazzone Arezzato in una sede di 750 metri quadrati. Nel 1983 viene eletto presidente Giuliano Sbaraini, figura fondamentale per la crescita del gruppo, alla guida della cooperativa fino al giorno d'oggi. Mentre si concretizza il primo servizio di consegna merci ai soci, nel 1989 Copre non ragiona più solo come un gruppo d'acquisto, ma anche come un gruppo di vendita. Dotandosi di un'immagine unitaria verso l'esterno, viene distribuito in 300.000 copie il primo volantino door to door rivolto al cliente finale. Si espande l'attività di marketing del gruppo, che prende anche in considerazione la gestione diretta di punti vendita di media e grande dimensione. Il nome rimane Copre, ma la sigla ora significa Cooperativa Professionisti Rivenditori elettrodomestici. Nel 1991 Copre entra a far parte del gruppo nazionale GRE, grossisti riuniti elettrodomestici. E intanto si apre anche agli affiliati. La sede si sposta a Borgo Satollo con uffici e un magazzino di 2.500 metri quadri. Copre, con un gruppo di soci GRE, acquisisce da Rinascente il marchio trolli e inaugura a Mazzano il suo primo trolli. Sempre nello stesso anno Copre entra nel CDA GRE. Infine procede al quarto trasloco della sede a Casteneto, ampliando uffici e magazzino, che raggiunge i 4.000 metri quadri. Una campagna pubblicitaria a carattere nazionale comunica nel 1997 la nascita della catena Marchio Troni. I negozi Copre cambiano così in segna e alle campagne promozionali locali si affiancano quelle nazionali realizzate con il GRE. Copre, nel 2006, si sposta nell'attuale sede a Villanuova sul Clisi e il magazzino raggiunge i 12.500 metri quadrati.